Salsa, prova, si sente bene? Maron, puoi fare l'asco? Amici, buonasera. Questa sera abbiamo un ospite di eccezione, un ospite che fa i soldi goppa internet, un ospite che ha trasformato il fare memini in napoletano... In arte! In situazioni simpatiche e sicuramente non ha scopo di lucro, perché ma fate i fan. Ricapitolando, qui con noi questa sera Alessandro Sepe, l'admin di Neapolitan Fresh Memes. Memes o memes, Alessandro? Ma io dico memes perché è come dire HDMI, al posto di HDMI oppure HDMI, quindi a noi le vie di mezzo non piacciono, diciamo Neapolitan Fresh Memes. Bravo, noi siamo eterosessuali. Bravo. Però poi ci chiudono il video se facciamo queste cose. Nel caso ci fosse qualcuno che non ti conoscesse, chi è Alessandro Sepe, prima di Neapolitan Fresh Memes? Raccontami un po' il tuo background, prima della pagina, cosa c'è? Quello che mi ha passione è proprio creare contenuti digitali in tutte le sue forme. Io studio appunto grafica pubblicitaria, lavoro in aziende, lavoravo prima del coronavirus. fondamentalmente niente. Sono sempre stato un utente passivo di internet, in che senso passivo? Che fino al 2017 ho sempre visto video, non mi sono mai appassionato nel crearli, nel commentare, nel condividere. Conoscendo anche altri colleghi, nonché grandi amici, dimmer da postaggio e altre piattaforme dello shitposting italiano, da lì questa passione esplosa e ho iniziato a fare meme, doppiaggi, musica e tutto quello che mi aggrada in pagine sul canale. Da lì è esploso tutto, quindi questa è la mia introduzione. Oh yes! E quindi al pubblico spieghiamo. Alessandro un giorno prende e crea una pagina che si chiama Napolitan Fresh Memes che a me piace particolarmente perché che fa? Prende il, diciamo, quello che è il background culturale del napoletano medio e lo mischia con la cultura di internet americana, ma in una maniera proprio avanzata. Ti ringrazio. Allo stato massimo. Allo stato massimo, allo stato brado. E ragazzi, hai fatto un'introduzione perfetta perché io di base faccio quello, faccio anche altre cose. Mi è capitato anche di shitpostare cose che non avessero a che fare con la cultura pop, l'intrattenimento anche spesso americano, quelli che sono i ghetto meme americani che vengono chiamati anche denk, ma denk è un termine che secondo me oggi è un po' obsoleto. Spesso però la comicità di nicchia può sfociare in una cosa di comprensione anche generale, come spesso sono stati i miei doppiaggi, perché i miei doppiaggi sono più normi, tra virgolette, però appunto godibili, spero, anche per chi non è, non bazzica in questo ambiente. Un giorno tu, preso dalla noia immagino, hai creato questa pagina. Come è successo? Raccontami questo evento che ti ha cambiato la vita. Allora, di base la pagina nasce nel 2014, che avevo 16 anni, però si chiamava, si chiamava tipo, fu un nome lunghissimo, Sheet Half Made Paint Memes, nomi del cazzo. Il mio pubblico erano tipo dieci amici miei, è fine. Come adesso sto podcast, non devo pensare. Attenzione, attenzione, io un po' lo spammo nel gruppo, vedo un po'. aspetta, fammi dare qualche bacino sul microfono. No, 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 ok. Baci senza maledità, senza maledità. la situazione è stata, è stata morta, cioè non c'è stato niente per anni, finché nel 2016 non vengo aggiunto a questo gruppo che si chiama Merda Postaggio. Se fondamentalmente da lì è esplosa questa cosa, grazie anche alla mia passione per il graphic design. Ricordati, il passo è sempre questo, Facebook star e poi niente i streamer di Twitch. L'account di Twitch l'ho fatto, l'ho fatto, attenzione. Attenzione, c'è un annuncio subdolo. o, 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 Adesso ci manca solo il Patreon e l'OnlyFans, poi da lì, da lì mi vendo. Il tipo di prodotto che, deve essere cambiato qualcosa, a un certo punto il prodotto che facevi, cosa è cambiato? Per attirare persone, cioè come che è bello e buono e fatti il boom? Se devo attribuire il successo della mia pagina che in un anno ho fatto da 5.000, 50.000 like, penso, vabbè, a parte la dedizione, perché ogni contenuto diverso che facevo, lo facevo a distanza di poco tempo, penso ai doppiaggi, i doppiaggi sono stati un po' acuto 2.0, però con i riferimenti alla cultura pop. Una breve spiegazione per il pubblico, io cito i doppiaggi bellissimi di Jojo fatti in napoletano, perché tra l'altro Jojo è un anime ambientato a Napoli e quindi Alessandro Rianfani ha un video geniale dove prende i personaggi di Jojo napoletani nell'anime e li fa parlare la loro lingua reale che è in napoletana. Sì, quel video su YouTube ha circa 200.000 visualizzazioni, di solito ne faccio 10.000, 5.000, invece quello è stato proprio un boom. Nel 2013 Jojo era una nicchia con Stardust Crusaders, poi è iniziato un po' a spammare su internet e vento aureo è diventato un fenomeno globale. Poi mi hai fatto pensare anche che sto fatto dei doppiaggi, perché i doppiaggi? Perché tu hai un target prima locale che poi si è voluto a livello nazionale, ma noi che veniamo dal campano abbiamo questa esperienza di acuto che è questo sito web dell'inizio 2000 che faceva i doppiaggi dei film in modo comico, ma anche a volte volgare, anche a volte becero. Sì, sì, sì. E noi, capì, riduci di questa esperienza che perché a un certo punto acuto è sparito e non c'era più nulla su internet che rimpiazzasse quel vuoto. Sono subentrato io. Io. Cioè, se fai una citazione di un video di acuto non ce la capiscono tutti. Sì, sì. Qui, Alistatum, lo vi sa, bro, il famoso doppiaggio di Hit. Quello è fantastico. Guagliono. Guagliono. Comunque volevo aprire e chiudere una piccola parentesi. Per quanto acuto sia una leggenda del... Abbiamo attribuito proprio il doppiaggio napoletano ad acuto io vorrei citare il grandissimo che ha creato, non so se lo conoscete, il doppiaggio di Dragon Ball Z Una famiglia di ziii. La cosa bella di questi doppiaggi è che a parte Alessandro Siani non si sa chi c'è dietro. Tipo, una famiglia zingla è pubblicato da un canale YouTube che si chiama Amanda Comedy. Ma non si sa chi è. Anche acuto e rimane un mistero chi è acuto. Cosa faccia nella vita? Sì, io penso che acuto possa essere reperibile. Non ci ho mai provato nonostante mi abbiano spinto in molti. O contatta anche il mio migliore amico contatta acuto contatta acuto fate una collab. Però non vorrei rimanere fermo al doppiaggio quindi ho lasciato passare la cosa poi magari appunto acuto è sparito di nuovo quindi aspettiamo il ritorno del bate per decidere aspettare il ritorno. Ma è vero che si scopa con le pagine Facebook. Allora, sfatiamo questo mito. Dipende se ti chiami Pier Matteo Griego e se è l'admin del super uovo sì. In realtà quando tu c'è una pagina estremamente famosa che magari pubblica quelle cose che le ragazzine scrivono amo noi e quelle situazioni lì può darsi. Io personalmente voglio sfatare il mito che con una pagina di meme non si tromba perché non è che tu dici a una ragazza no guarda io sono admin di Napolitan Fresh Mames oddio e c'è il lago in mezzo alle cosce non funziona così quindi sfatiamo questo mito. Le pagine Facebook fino a un certo punto erano limitate alle funzioni che attribuiamo alle pagine come commentare e mettere mi piace ed era difficile costruire una vera e propria community. Ad un certo punto iniziano a subentrare i gruppi e il fatto che si possa creare il gruppo legato ad una pagina io mi ricordo quando è aperto il gruppo perché io seguivo la pagina e ho visto il gruppo di Napolitan Fresh Mames che si chiama Napolitan Fresh Group giustamente che cos'è innanzitutto che accomuna tutti gli utenti di questo gruppo che cos'è che attrae così tanto? Ma il nome della pagina sicuramente non te lo nego ogni giorno io rifiuto richieste di gente che non risponda alle domande oppure scrive Pastorizia Never Dies come pagine preferite di meme il super uovo alfa uomo io là mi rifiuto però ovviamente cose che accomuna tutti da un punto di vista proprio dell'intrattenimento è la cultura pop internet semplicemente abbiamo tutti questa grande passione per l'intrattenimento e nell'usare internet nella maniera che a mio parere è più consona e utile ossia quello di pariare da pariare da pariare fratami e questa è la cosa che ci accomuna ci sono degli step particolari che hai seguito per la creazione della tua comunità il mio obiettivo primario era quello di far racchiudere tutte queste persone in un solo gruppo soprattutto di farmi aiutare in pagina con i post creare discussioni interessanti e da lì è nata tutta una situazione che io ritengo la ciliegina sulla torta del mio percorso perché io nel gruppo nonostante faccio il cane mastino perché io veramente faccio il cane mastino hai postato una merda io te l'elimino no fra le vasta merda le vasto cringe questi fatti qua controllo qualità controllo qualità però a volte è un po' eccessivo dai infatti quando mi sfottono io mi lascio sfottere è anche bello tra l'altro il fatto che in una comunità online non ci sia più il fatto che diciamo l'amministratore il creatore di questi contenuti sia una sorta di come acuto una persona quasi irraggiungibile perché tu non sei chi è non interagisci direttamente con lui invece con la creazione del gruppo e col fatto che tu ti poni allo stesso livello dei tuoi utenti si crea un'amicizia virtuale che poi è molto bella sì sì e questo è il bello ci accomuna questa passione allo stesso tempo riusciamo anche a organizzarci per vederci bello perché non è soltanto una comunità online è un vero e proprio punto di incontro e di amicizia c'è una cosa odiosa che si chiama il freebooting per chi non lo sapesse anzi Alessandro dici tu creo freebooting creo freebooting freebooting 101 il freebooting è quando semplicemente tu fai un contenuto un contenuto magari non coperto da watermark come le mie foto perché io raramente metto il watermark e ne approfittano pagine svariate gruppi soprattutto su instagram instagram è la patria del freebooting e niente ti rubano i tuoi contenuti tu fai un doppiaggio magari ci metti il tuo logo oppure non ce lo metti proprio e loro croppano il logo semplicemente ti rubano il video e lo postano sulle loro piattaforme e per chi per chi fa questo per vivere per guadagnare il freebooting è un cancro è proprio una cosa che ti leva i soldi fino a un anno e mezzo fa due io contro il freebooting mi incazzavo dico raga guardate questo ha pubblicato il mio video su youtube raga strikeatelo abbuffatelo di spammatelo adesso invece vabbè ma ci sta ci sta però adesso sti cazzi tutto quello che faccio lo faccio per una mia fanbase che ormai è comunque solida è estremamente solida quindi a me del freebooting adesso me ne spate non devi dimostrare niente a nessuno la cosa bella la cosa bella di avere appunto una come ci vuole un'utenza fedele è che quando qualcuno nota che è avvenuto il furto di materiale sono i primi che commentano sotto appunto alla pagina a instagram che si dicono guarda che sta roba l'hai rubata da questa pagina e ti vincano sempre quindi alla fine anche indirettamente c'hai chi ti tutela la tua utenza sì 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 e loro sono molto calorosi affettuosi oh fra guarda che signor neapolitan un'osservazione personale che contribuisco alla tua idea chi fributa e quindi chi è che ruba materiale di proprietà intellettuale altrui e lo spaccia per proprio è perché evidentemente a fare il creator creare contenuti online non è roba per te se hai bisogno di rubare ma che la fai a fare una pagina scusa è perché è gente è gente che pensa ai numeri è gente che vuol tende a fare duemila tremila condivisioni magari invece chi come me crea contenuti come sfogo come intrattenimento con una fanbase calorosa appunto tende ad apprezzare molto di più un commento del tipo grazie ai tuoi doppiaggi grazie ai tuoi meme io ho superato una fase difficile oppure ho avuto un lutto in famiglia i tuoi doppiaggi mi fanno un sacco ridere ho superato un brutto momento io là io là mi si scioglie il cuore però hai detto una cosa molto bella ovvero il fatto che i tuoi contenuti hanno talvolta alleviato la giornata delle persone sono messaggi che mi arrivano ogni tanto ma quando mi arrivano io ho sempre più voglia di fare ho sempre più voglia di fare perché fondamentalmente tu stai dando a una persona che magari ha avuto una brutta giornata quei 5 minuti di sorriso con un doppiaggio che tu fai anche per te stesso per divertirti quindi fondamentalmente unisci l'utile al direttevole ed è bello è bello perché la gente apprezza quello che fai nonostante tu sei dietro ad uno schermo la gente sa sa darti amore e questa è una cosa bellissima secondo me sì sì è vero perché per qualcuno sarà solo hai rovinato tutto perché Simone Giuliano secondo voi faccio una domanda è una cosa che ci rifletto e a volte a volte non ci dormo la notte su questi cazzi no? per esempio voi io ritengo che i meme siano la fonte principale di intrattenimento di informazione di divulgazione scientifica anche perché quante volte vi è capitato di ricevere un'informazione di cronaca gialla cronaca nera di gossip prima sotto forma di meme e poi sui giornali sulla tv locale cioè io per esempio la presunta morte di Kim Jong-un l'ho saputo almeno un giorno prima come meme e poi sui giornali e poi in tv cioè è incredibile i meme sono avanti anni luce su tutto è vero è verissimo e io credo sia per due ragioni innanzitutto perché ormai il tipo di comunicazione del meme è così immediato ed è così facile da divulgare che puoi veramente farci un notiziario con i meme si è un tipo di informazione proprio orizzontale cioè alla base di tutti alla portata di tutti è proprio orizzontale come comunicazione quindi si è così rapida così veloce cioè tu vedi una foto su facebook fai lo screen e la mandi a uno cioè esatto quello che gli piace è divertente e la manda a un altro questo però porta anche al lato negativo ovvero la possibilità che questo fattore virale possa condividere facilmente notizie false quindi fake news si si io vedo che tu ti stai espandendo ad altri social ma youtube sta andando bene voglio sapere qual è la differenza tra questi diversi social e qual è la tua strategia cioè cose che fai su youtube è più semplice che magari un video possa essere cliccato più volte invece su facebook una persona lo guarda una, due volte tre massimo su youtube c'è gente che se lo mette nella playlist ma io vi devo passire wow buono a me piace passire favorito favorito senti una domanda subito viene a caldo ovviamente tu ti chiami napolitan fresh films ma rimarrai sempre legato al napoletano oppure ti aprirai ad altri contenuti di tipo per ampliare la tua utenza continuerò ad ampliare quelli che sono i miei contenuti io spesso pubblico cose che non hanno a che fare prettamente con il napoletano però continuo a chiamarmi napolitan perché ormai è diventato proprio un nome una garanzia non l'avevi fatto mai ma tu per aver poi creato tutti questi contenuti hai dovuto per forza di cose studiarti il ceto basso della civiltà napoletana la crema della crema nella crema non è che ci studio perché io so di napoli centro quartiere avvocata quindi tu certe cose le vivi vuoi dire e oh stiamo in da crema cioè mo ci vuoi nel meme di shrek la maglietta marcello burlon è una realtà quotidiana del partenopeo proprio sconcertante il cappello icon della disquerd cioè sono cose che tu vedi tutti i giorni anni fa nel 2018 quando la mia pagina era ancora a 5000 like feci and kill il padre del ragazzino di king of the hill non mi ricordo il nome lo feci con la maglietta di m9p le balenziaga col background di mergellina e la tennez in mano e quello è proprio è uno squarcio del classico quozzo napoletano e magari se una donna di un amico tra quello è come se Pasolini avesse fatto un meme esatto c'è proprio uno squarcio di quella che la realtà che viviamo tutti i giorni nel partenopeo allora abbiamo parlato un sacco ma ci vuole della pagina di nemini però tu ultimamente ti stai dedicando anche ad altre cose ho visto un progettino musicale sì il mio mixtape gratuito bootleg che consiste in anche un doppiaggio che feci che è un doppiaggio musicale del donkey kong rap per nintendo 64 l'ho riproposto in napoletano uno dei miei doppiaggi più apprezzati che metterò poi in download gratuito cioè io sono quel classico ragazzo che quando si è in gruppo la sera si mettono a strumentale si mettono a fare freestyle però per non cagare il cazzo lo faccio appunto in maniera ironica stai facendo paradossalmente non so se ti rendi conto ma un po' con l'escalation che ha fatto quello che oggi è Joji Filthy Frank il dio dei name politicamente scorretti a un certo punto ho deciso di fare un album comico Pink Guy Pink Guy assolutamente gente quando la gente mi ha scritto fra ma tu ti mi sembra che avevo Filthy Frank napoletano io gli ho detto Samarone molta gente critica Joji critica l'artista che c'è dietro Filthy Frank perché infatti tu hai abbandonato il tuo personaggio hai abbandonato Filthy Frank Pink Guy Safari Man tutto quell'universo canonico tu lo hai abbandonato per una carriera musicale e beh che ci stia male è lasciato a internet un patrimonio culturale voglio aprire questa parentesi su George Miller quando lui faceva Filthy Frank nel panorama mondiale dei meme tutti facevano il cesso why you chiudevano tutto il cesso perché era lui il must lui assieme ai dubs Max Moffo Papa Franco Papa Franco lui ha inventato l'Arlen Sheik ah sì l'Arlen Sheik l'ha inventato lui se l'ha inventato lui se l'ha inventato lui George non è altro che la manifestazione di un io più represso che faceva di quando faceva il suo io artistico vuole dire ci soffriva comunque non ho non ho propri mezzi per mettermi in mostra e non lo fare come l'ha fatto lui perché veramente ha creato poi un polverone mediatico enorme c'è anche da dire che oggi non possiamo mai fare la stessa cosa perché oggi viviamo nel politically correct invece sono tutti più sensibili oggi sono tutti più sensibili e tu non puoi parlare di transright sfottendoli come ha fatto Filty Frank nel 2020 perché ti vengono proprio ti appendono per le palle ti appendono proprio per le palle per il futuro che cosa ci dobbiamo aspettare? semplicemente quello che ho sempre continuato a fare Napolitan Fresh Channel Group finché non mi sfasterio dubito che mi sfastererò perché è una cosa proprio che mi dà soddisfazione ed è una grande valvola di sfogo come ho già detto prima cioè non ho limiti non ho un limiti nella mia visione artistica poi se dico artistica pare che mi sparo la posa però in caso è arte è arte è anche quella adesso tutti seri ragazzi toni seri toni seri ultima domanda beh se c'è una cosa per concludere questa intervista qualcosa tra tutte quelle che potresti scegliere di qui vai fiero? di qui la tua esperienza ti ha insegnato magari? che cos'è? l'affetto della gente che sia quella del gruppo che sia quella della sezione commenti di un meme anche virale quando la gente ti scrive appunto ho superato un momento difficile i tuoi meme sono tra i migliori in Italia comunque mi fai sempre divertire oppure sei capace di rinnovarti a ogni cosa che pubblichi per me quello è un grande traguardo e al di là dei numeri perché a me dei numeri passa per il cazzo arrivati a questo punto io penso che comunque l'affetto delle persone essere riconosciuti proprio come come fonte di divertimento creatore di contenuti è bello è bello in tutte le sue sfaccettature quindi questo per me è un grande traguardo al di là di tutto grazie Alessandro mi sento mi sento gratificato sì prego un bacino zuccherato e un abbraccio circolano a tutti i miei fans scendo con la mia sedia ciao a you no più di vai è andato via un pezzo che tornerà va bene con Alessandro giù nello scantinato ci salutiamo grazie a tutti